Grande impresa e campionati europei indoor in svolgimento a Istanbul per la Niscemese Alice Mangione, che insieme ad Iomide Florunzo, Anna Polinari ed Eleonora Marchiando hanno conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x400. Una vera e propria protezza autentica, quella della Niscemese e delle sue compagne, che hanno regalato all'atletica italiana l'ennesima medaglia in questi europei in Turchia. Un gran bel riconoscimento a livello europeo per la Mangione, che conferma il valore dell'atleta siciliana sia a livello nazionale che internazionale. Una medaglia importante per l'atletica italiana è una grande festa per tutta Niscemi, che aspetta il ritorno della sua atleta per regalarle il giusto applauso.